Sono Giuliana Mancinelli Bonafaccia e sono qui da Coyne Celsior per presentare la mia collezione Polo Winter 2016. La collezione ti ispira a una donna contemporanea che però abbia una lura romantica, che ricerchi comunque un prodotto che possa essere indossato dalla mattina fino alla sera. Le borse hanno un legame molto stretto con quella che è la collezione di gioielli, utilizzando ad esempio le catene con dei bagni in oro rosa e in oro verde 18 carati.